Giovanni Legnini, che in occasione della giornata della memoria ha voluto ricordare la storia di Oscar Fuà, un giovane sulmonese di origine ebraica che perse la vita nella lotta per la liberazione. La commemorazione di tributo alla Shoah si è svolta nel campo di prigionia 78, dove furono rinchiusi durante la Seconda Guerra Mondiale migliaia di prigionieri che in seguito all'armistizio trovarono una via di fuga in quello che oggi è stato denominato il Sentiero della Libertà. Questo è un luogo di memoria storica, così come altri punti dell'aria. Crede che si può pensare ad un progetto di rilancio per l'Abruzzo? Per guardare al futuro deve avere ben presente il proprio passato, deve coltivare la memoria, appunto. Dobbiamo farlo di più. Qui da noi, in Abruzzo, ce l'ha detto e ricordato autorevolmente il presidente Mattarella Casoli, il 25 di aprile scorso, iniziò la resistenza italiana. Qui la Brigata Maiella diede prova di straordinarie capacità di lotta al nazifascismo e di capacità di liberare i nostri territori e altri territori appartenenti ad altre regioni, le Marche, Bologna, fino ad Asiago. L'orgoglio per questa storia, l'attaccamento ai valori di libertà, di giustizia, di eguaglianza che ci proviene dalle storie di ragazzi che decisero di mettere in gioco la propria vita ci deve orientare per il futuro. Il fratello di Oscar Fuà, che stiamo ricordando oggi, in questa giornata della memoria, ci vuole dare un suo pensiero? Ancora giovane, però decise di arruinarsi alla Brigata Maiella, ha fatto un lungo percorso fino a Brisichella, dove il 4-12 del 44, in combattimento, fu colpito a morte. E poi, data l'età che ci aveva, 17 anni, è una cosa che fa emozionare. La narrazione delle vicende è stata affidata allo storico Edoardo Puglielli, autore di Oscar Fuà, patriota della Brigata Maiella, e agli studiosi Mario Salzano e Mario Setta.